Io penso di essere stato proprio il primo penso, penso io, eravamo in 3-4 là ma penso di averla presa io subito la gondola. La prima volta della gondola mio marito ci è andato con mia figlia, perché mio genero ha un negozio qua e non poteva mancare, dice tanto, ed accompagnare là, però sapeva che la sera prima era venuto a cena e poi lo vedeva tutti i giorni, che faceva fatica a camminare, non riusciva. Ho visto gente che veniva con la carrozzina o le stampelle, siamo nelle stampelle lì, anche la carrozzina mi sono detto, Madonna, ma non sarà vero poi? Adesso vedrò quando vedo io, no? Infatti quando sono soltanto io mi è successa la stessa cosa, sono soltanto con le stampelle e sono andato fuori senza perché camminavo bene, ma davvero sa. Allora sono tornati da là e mio marito dice con mia figlia portami in negozio, è andato dentro da solo, ha fatto tutta la corsia davanti dal bancone e mio genero, ma Vittorio, ma cosa ti hanno fatto? Cosa ti hanno messo nelle gambe? Ah niente, mi hanno fatto la prova con la gondola e il risultato è questo, telefonaci subito che la prendiamo subito perché io non lo voglio più vedere a camminare in quel modo lì e così abbiamo fatto e siamo stati contenti. Ho preso la gondola perché ho visto che veramente per me era una toccasana. Per noi è stata proprio una gran scoperta perché fatto le gondole mio marito è incominciato a camminare come prima, abbiamo festeggiato il nostro cinquantesimo anniversario del matrimonio. Grazie. Grazie. Grazie.